Perché dico no alla discarica. Perché dico sì allo sviluppo del paese. Perché sono una mamma. Perché noi siamo la cura. Perché siamo tutti a rinunciare all'indennità. Perché indepone all'arroganza il rispetto e l'educazione. Perché Francesco ha ancora il futuro dei nostri figli. Perché dico no al comune dei soliti e voglio un comune per tutti e di tutti. Perché voglio dare voce ai giovani. Perché voglio l'aria pulita e l'energia rinnovabile. Per tutti questi motivi e perché noi crediamo veramente al cambiamento. E vogliamo un'amministrazione al servizio dei cittadini. E non i cittadini al servizio dell'amministrazione. Vi chiediamo la fiducia il 9 e 10 giugno. Grazie. 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 Grazie a tutti